Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, 4 km di coda per un incidente ora risolto tra Badea e Aglio sulla variante di Valico e 2 km di coda per incidente al km 258 tra Aglio e Barberino di Mugello. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. In Filippili in direzione mare, 1 km di coda per incidente al km 3800 tra Scandicci e la Strassigna. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. A causa del forte vento e del mare molto mosso con onde fino a 4 metri, sono attualmente sospesi i traghetti con l'arcipelago toscano. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!